deliberazione del consiglio comunale numero 75 del 30 dicembre 2013 oggetto funzioni fondamentali gestioni convenzione determinazioni il consiglio comunale premesso che ai sensi dell'articolo 14 commi 2531 del decreto legge 31 maggio 2010 numero 78 convertito in legge 30 luglio 2010 numero 122 come modificato dall'articolo 19 legge 135 2012 i comuni sotto i 5.000 abitanti o fino a 3.000 se appartenenti o già appartenuti a comunità montane devono obbligatoriamente esercitare in forma associata tramite unione o convenzione le seguenti funzioni fondamentali a organizzazione generale dell'amministrazione gestione finanziaria e contabile controllo b organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale ci catasto ad eccezione delle funzioni mantenute dallo stato dalla normativa vigente di la pianificazione urbanistica ed edilizia e attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi f l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi g progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e derogazione delle relative prestazioni ai cittadini secondo quanto previsto dall'articolo 118 quarto comma della costituzione h edilizia scolastica organizzazione e gestione dei servizi scolastici i polizia municipale e polizia amministrativa locale ad esclusione della tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici nell'esercizio delle funzioni di competenza statale ai sensi del comma 31 ter come introdotto dall'articolo 19 legge 135 2012 i comuni interessati assicurano l'attuazione delle disposizioni di cui rappresenta l'articolo entro il primo gennaio 2013 con riferimento ad almeno tre delle funzioni fondamentali e dentro il primo gennaio 2014 con riferimento alle restanti funzioni la lettera b di tale 31 terre comma è stata sostituita in virtù del comma 530 articolo 1 legge numero 147 del 27 dicembre 2013 legge di stabilità 2014 dalle seguenti b entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali b bis entro il 31 dicembre 2014 con riguardo alle restanti funzioni fondamentali ebbene con 7 voti favorevoli espressi per alzate di mano presenti votanti numero 7 6 consiglieri ed il sindaco il consiglio comunale di berceto ha deliberato di approvare uno schema di convenzione quadro da sottoscrivere con i comuni di albaretto bardi solignano valmozzola non necessariamente insieme tutti e cinque ma anche alternativamente tra di loro diretto disciplinare l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui l'articolo 19 della legge 135 2012 demandando successive delibere da adottarsi anche da parte della giunta a ciò opportunamente delegata l'approvazione di convenzioni più specifiche riferite alle singole funzioni e fermo restando che l'organizzazione più dettagliata e demandata anche ad altri strumenti quali conferenze dei sindaci e accordi di cui l'articolo 15 legge 241 1990